Si è tenuta questa mattina l'assessorato regionale al lavoro a Napoli una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore al lavoro della regione Campania, Soria Palmeri, e Maurizio Del Conte, presidente di Italia Lavoro. Al centro del dibattito, il mercato del mondo del lavoro e il suo cambiamento attraverso i programmi sperimentali, come botteghe dei mestieri e dell'innovazione e il programma nazionale Fixo IEI. Il successo delle misure del lavoro non può prescindere da una riorganizzazione dei servizi per il lavoro, dalla presa in carico all'erogazione dei servizi. Quindi è importante la rete di operatori campani, sia pubblici che privati, ha spiegato l'assessore al lavoro Sonia Palmeri. Nel dicembre del 2015 va rato un piano per il lavoro che è cuba 400 milioni, tra quelli realizzati su garanzia giovani, pertanto tra i 15 e i 18 anni, quelli che riguardano invece il reinserimento lavorativo di coloro che hanno difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro. Però dobbiamo riorganizzare anche i servizi per il lavoro, lo facciamo attraverso una rete, mettendoli in rete insieme ai cop, insieme ai comuni, quindi facendoli coincidere con gli ambiti di zona, con i 58 ambiti di zona, in modo che il cittadino, oltre ad essere disoccupato, visto che ha bisogno di altri servizi, verrà avviluppato dai servizi alla persona nel complesso. Le misure già presenti vanno dunque integrate con altri provvedimenti di ricollocazione e inserimento lavorativo. Ha insottolineato il presidente di Italia Lavoro, Maurizio Del Conte. Italia Lavoro ha già in essere delle misure importanti di aiuto sul territorio, misure come quelle di botteghe e di mestiere, che sono indirizzate a aggregare piccole realtà produttive e inserire in queste piccole realtà produttive dei tirocinanti in un percorso di accompagnamento poi all'occupazione, con un tasso di successo fra il 60 e il 70%, quindi vuol dire un percorso che inizia con un tirocinio ma che in larga maggioranza si conclude con un lavoro.